Finalmente l'Avellino ritorna agli Avellinesi, ritorna agli Irpini e questo è un gran bel segnale. D'Agostino dalle direzioni rilasciate ho visto che ha animato da grande voglia, ma soprattutto quello che mi è piaciuto, ha usato il termine programmazione e soprattutto ha detto di puntare sul settore giovanile. L'augurio è proprio questo, che punti sul settore giovanile, ma soprattutto che si affidi a persone capaci, non a persone improvvisate come sono state quelle che a un certo punto avevano preso in mano le redini del settore giovanile dell'Avellino, che veramente è sembrato abbastanza ridicolo e mi auguro che non incappi in questo errore D'Agostino. Dall'alto della conoscenza che ha Gigi Pavarese di D'Agostino, quali saranno le mostre? La nostra è una conoscenza superficiale, però ci unisce la stima reciproca, almeno da parte mia, con grande stima di D'Agostino. Assolutamente, abbiamo una conoscenza molto superficiale. C'è stata qualche telefonata nelle ultime ore, si fanno tanti nomi, si fa anche il nome di Gigi Pavarese? Guarda Marco, io non perché faccio il brigante di professione per fuggire da queste voci, ma ti posso assicurare che non c'è stato nessun contatto e non credo che ci saranno contatti. Perché non crede che ci saranno contatti? Marco, conosci la canzone Palombe e Notte? Ecco, tu mi ricordi proprio Palombe e Notte. Cioè, Palombe è chissà nullum, non è il roso Gersomino e tu per forza qua continua a girare. E allora giro all'operatore di mercato una domanda invece generale. Le squadre si fanno in primavera, questo è il periodo propizio per pianificare e fare le squadre in primavera. L'Alellino si è iscritta con ritardo questa stagione e comunque è riuscita ad allestire la squadra. Comunque non abbiamo minutaggi, non abbiamo giovani per portare soldi in cassa quando ci sarà. Sono altri problemi, ma comunque probabilmente è stato fatto perché era stata assicurata di somma che si poteva andare avanti. Ecco, di somma, attualmente D'Agostino è arrivato e ha detto delle cose sacrosante. Non muovo nessuno, valuterò, poi decideremo, abbiamo due mesi. Però un operatore di mercato, una società che deve programmare in questa fase, parere mio, non so se è anche quello di Pavarese, a un direttore sportivo o dai ampia fiducia già in questa fase per fargli fare i rinnovi e gettare le basi, oppure trovi un altro. Non sto parlando di Pavarese in generale. Ma vedi, abbiamo qua da Avellino che volete tutto e subito. Date tempo a chi è appena entrato di poter decidere, di potersi rendere conto. Poi, personalmente, non chiedete a me di disomma, io sono molto legato, io sono cresciuto con due idoli da piccolo. Antonio Iuliano e Salvatore di Somma. Salvatore di Somma e Antonio Iuliano. Quindi, per cortesia,